Riportiamo le filosofie in cantina con le religioni e la playstation 2 Sillogismi e imperativi hanno fallito come il sol dell'avvenire, così sia Continuiamo ad inventare dimensioni dopo il cubo, l'ipercubo e così via Solo è il senso che la storia stia finendo, quando stai sicura non finirà mai Perché non finirà, 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 non finirà Grazie.